Al Circolo Unione di Bari, la presentazione dell'ultima produzione letteraria di Matteo Bonadies. Il trauma dell'abbandono, edito da Bonfirraro, scandaglia nella quotidianità, nella mente, nel cuore, nell'animo, nei sentimenti più nascosti dei protagonisti dei racconti dello scrittore barlettano, che si intrecciano con momenti storici diversi, aggrappati alle modi, alle relazioni, alle passioni, agli egoismi, alle contrapposizioni del genere umano, raccordati nella univocità del trauma dell'abbandono. Per chi conosce bene l'autore, perché ha letto buona parte dei libri di Bonadies, inevitabilmente ritrova spaccati di vita dello scrittore, percorsi riconducibili alle sue esperienze personali, una filtrata analisi della sua esistenza, un flashback ricco di riflessioni e sollecitazioni. 28 capitoli che non trascurano riferimenti all'infanzia e alla famiglia, ai sogni infranti, alle problematiche generate dall'amarezza della terza età e del clima economico in fausto. Il trauma dell'abbandono diviene così metafora della cacciata di Adamo ed Eva dal mitico Eden, scrive l'antropologo Cesare Lombardo nella prefazione, ovvero la fine della felicità e dell'innocenza, ed inoltrarsi nel sentimento della crisi delle relazioni della dialettica con l'altro, con affetti, amore e aspettative del lavoro, con la fabbrica, la terra natale, in sintesi con tutti quei grembi accoglienti che prima o poi deludono e tradiscono. Il trauma dell'abbandono, libro di semplice e agevole lettura, con la tipica spontaneità del suo autore, diviene così un ottimo strumento per creare conversazioni sulle esperienze dell'uomo. Prova evidente il corale apprezzamento del pubblico del Circo all'Unione di Bari, suggelato dai complimenti del presidente Giacomo Tomasicchio allo scrittore Matteo Bonadies e all'attrice Meri di Pace, ottima interprete dei frammenti narrativi. Ancora una volta i racconti di Bonadies diventano materiale utile per condividere gli aspetti belli e brutti, felici e dolorosi delle stagioni del cuore della nostra esistenza.